Qualcuno ha visto il film di Dichele? 8 miles, upside down 8 miles Bro, incredibile il film di Dichele Cioè, comunque è live sponsorizzata da S Magazine Guardate il film di Dichele Sì, sì, questa live è sponsorizzata, bro Brando è un Fedez supporter Sì, non mi dispiace Brando, puoi dire a Dichele, accanto a te, che il film è Mead? Non ti permette Mead? Non ti permette Mead è... Yo No, bro, non ti permette Mead sarà tua madre No, 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 no Allora, no, bro Cioè, non è Mead, bro È terribile Cioè, scusate Cioè, dire Mead è un complimento troppo grande per una roba del genere No, è davvero un complimento per quel film No, no Cioè, nel senso Che poi in realtà abbiamo fatto un paio di considerazioni sul film Che, rispetto a Zero Cioè, è un salto di qualità, eh, per l'amore del cielo Però, cazzo Con certe conversazioni, vecchio che... Peggior film visto in vita mia Cinografia top Ma che cazzo gli argi scrive Antonio? No, veramente Anche la trama è mid Boh, l'ho visto con amici E abbiamo salvato il mood Solo grazie ai nostri meme Fattuale, bro Fattuale Perché la realtà dei fatti È che ce lo siamo pompati tutti in balotta Perché faceva troppo scassare Io ti giuro Che il giorno in cui è uscito A parte che ne stavamo parlando Da due giorni prima che uscisse Ed eravamo tutti in hype Lì per guardare sto film di Michele Pronti a spenderlo per il culo Però, alla fine È stata un'esperienza fantastica Perché ci siamo divertiti un botto Perché devo dire È stata una hit Sali un po' Dialoghi di merda Recitati di merda Di merda C'è qualcuno che gestisce questi cazzo di attori? O la prima battuta che leggono C'è, dicono Ok Buona la prima Hai, prossima scena Ehm Franco ma Io Ehm Non andare O Franco ti voglio bene Anche Vabbè non lo so Dicevano delle cose vecchie Ma che poi ti dico Io ho questa teoria Per chi ha guardato il film Quello che balbetta No Recita un po' meglio degli altri ragazzi Avanti Avanti No è vero Quello che balbetta recitava un pochino meglio Però Anche il fatto di aver incluso un balbuziente nel film Ci sta per l'amore di Dio Ma quanto stai facendo l'emosina di pena vecchio Cioè Nel senso Se tu te lo sai gestire bene Un personaggio del genere E ci puoi E ci vuoi fare un film su un balbuziente e tutte cose Ci sta per l'amore di Dio Però cazzo Devi farlo fucking bene vecchio Perché se mi fai una cagata Che mi elemosina davvero La pietavez Dove Cioè mi sembra che il personaggio è lì che mi supplica per dire Ehm Dai Abbi pena Di me Guarda come sono messo Ehm Mi è morto il fratello E Volevo reppare Ma Ormai Ho fatto un incidente d'auto E adesso Balbetto Ma che cazzo Dio santo Vabbè Ehm Sì Sì Siamo solo invidiosi Siamo solo invidiosi E di che era un fanculo vero? Sicuro? No No il trailer è ancora più bello del film Il trailer è incredibile Il trailer è incredibile Incredibile È incredibile È incredibile No 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 Sì Cioè la prima frase del trailer sul suo profilo è clamorosa Non mi ricordo che cazzo dice Ma era tipo Noi sognavamo tutti quanti di potercela fare con il rap Sognavamo di essere una famiglia e di stare uniti E poi sorpresa sorpresa una diventa colazione da Tiffany l'altro muore Anzi in realtà ci sono stati un po' di plot twist che non mi aspettavo A livello di trama di quello che succede non mi ha dispiaciuto neanche troppo Perché le cose che mi aspettavo non sono successe e questo ci può stare E anche il modo in cui era organizzata la trama Nel senso che era divisa in tre Si poteva se la poteva giocare anche decentemente Tu dici che è da buttare anche quello Si per me è da buttare perché l'ho trovato super prevedibile E ho odiato il fatto che hanno Spoiler alert Il tizio balbetta per un incidente stradale E il fratello muore alla fine per un incidente stradale Si anche quello vecchio Non lo so ammazzami pure un terzo spesso Un incidente stradale C'è solo una macchia di uccisione in tutta la serie La madre che diventa colazione da Tiffany mi spezza Che diventa tipo Che poi diventa Cioè ma chi cazzo Ma l'avete visto Per chi l'ha vista vecchio Quando è diventata ricca Ma quale Quale persona ricca Nel Oh grande Marco Mem What's poppin' Bella per Marco Mem No comunque Quale persona ricca nel 2022 Diventa Cioè inizia a vestirsi così da un momento all'altro Vecchio Mi sembrava davvero Colazione da Tiffany Ma colazione da Tiffany È fatta negli anni sessanta Non mi ricordo quando Però ero tipo Cioè questa è la tua idea di persona ricca Cioè Zio Non si vestono più così ragazzi Poi condivido di brutto critica la vocina da favole per bambini Mi spiace ma la voce da fuoricampo era assurda Atroce Atroce Inguardabile Cioè quella cosa lì Ti fa scendere le palle Dal primo momento in cui apri sto cazzo di film Eh Perché Perché noi sognavamo Questa cosa qua E tutti quanti Speravamo di essere uniti Ma zi Ma oh Ma vi verrebbe lì da tirargli due sberli e dire Oh Ma ce l'hai Un po' di cazzimma Di obolo Ma porca troia Nessuno parla così Cazzo Assurdo Assurdo Cazzo Sembra un pimpatto da una bambina delle elementari vecchio Cioè Vabbè Quanto era provvedibile la tipa incinta Anche quello un botto Che poi gli ritira L'unica cosa che avevo previsto è che gli avrebbe tirato due bambini e non uno Cioè Aspetta cosa Cioè la tipa incinta no Sì Lui sicuro finisce a crescere due bambini non suoi e non uno solo Alla fine Lui finisce per crescere il bambino Cioè la bambina sicuro La bambina sicuro La tipa incinta No Ah dici Ah è vero perché poi si rimettono insieme tipo Non è Non è confermato A parte che stiamo spoilerando Aspettiamo il sequel con ansia Con ansia E poi Voglio sapere Lei ho Lei ho detto A.K.A. guarda mi dispiace Però Qua L'unica cosa per cui Non Sono d'accordo Secondo me Chi ha investito i soldi in quel film in realtà Ha spaccato Io l'ho guardato Nel senso Molti l'hanno guardato Anche io l'ho guardato E soprattutto rispetto a Zero è meglio Cioè Zero ero proprio triggerato se a uno piaceva Zero No Non dirmi così Sì Invece se a uno piaceva Toon Beat sono tipo Ok No ma non è accettabile neanche quello Mi dispiace Però è meglio di Zero Di che le ti vogliamo bene Sì Winter Beat sarà la vita Sì Winter Beat Ha fatto un film per sensibilizzare sul topic incidenti Yo Fattuale Yo Fattuale Secondo me Antonio ha scritto per troppi giorni di fila Davvero 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 E poi Cioè vi rendete conto che tutto il film era una frecciatina di nuovo a Fedez e ai Ghostwriter No non penso Secondo me sì bro perché lui era il Ghostwriter di suo fratello Suo fratello non lo include nell'album Perché i Ghostwriter Eh Non Cioè perché i rapper che usano Ghostwriter li nascondono Che non è vero Perché sono tutti quanti Cioè comunque se tu cerchi un pezzo bro Ti appaiono i Ghostwriter Non sono sempre dei Ghost Cioè anche quest'idea di essere Ghostwriter Cioè sti cazzi bro Cioè è stato fatto da sempre vecchio E Yo Giovanni ha la mia stessa felpa Bella per chi si è diplomato al fermo Cioè Secondo me Era una frecciatina Cioè perché era una grandissima film Tutto un film frecciatina Per dire Guarda i rapper che usano i Ghostwriter Quanto sono infami E poi falliscono pure Perché non includono il nome del fratello nella copertina Beh quella può essere una critica A chi si fa scrivere le canzoni Senza un pregiubbio Però allo stesso tempo il protagonista è un Ghostwriter No? Ghostwriter Eh sì però Esatto Lui Nel senso non è che insulta i Ghostwriter Quanto le persone che usano i Ghostwriter Ecco Perché il protagonista era uno che scriveva tutti i giorni Però secondo te al morale finale Non è che Ti conviene accettare il fatto che è un Ghostwriter Che è un Ghostwriter Non ti conviene accettarlo e basta In che senso? Cioè perché dovrebbe essere Se lui avesse accettato il fatto che Era il fratello a scrivere le canzoni E l'avesse reso pubblico E lui sarebbe andato a bere Probabilmente Capito? Allora Eh però non poteva Perché la Le grandi industrie Secondo di Chele Non accettano Che la gente abbia i Ghostwriter Nella Magari nella copertina ha senso Perché a parte che Che cazzo Cioè nel senso A parte che lui Cioè cosa cazzo vuoi Che per maloso di merda Cioè il personaggio lì Che dice Non hai incluso il mio nome Nella copertina del tuo album No allora non possiamo Fare i milioni insieme Io non voglio essere tuo amico Cioè se fosse stato un suo ragazzo Un po' l'avrei capito però Ma era suo fratello Non ha parlato per dieci anni Con suo fratello Per questo Sì ma infatti però Ma stai scherzando Ma quanto sei per maloso Ma sei pazzo vecchio Ma vuoi più che altro Cioè nel senso Vuoi i soldi O la fame Cioè nel senso Poteva tranquillamente Fare il Ghostwriter Guadagnarci un botto E bella zì Però no Se non c'è il mio nome Nella copertina Fedez Luca guardalo Luca guardalo E poi vorrei dire Che Federico È sopra Marco Mem E Marco Mem Con quel nome grigio Non si deve cazzo permettere Di parlare con Federico No no bro Stai esagerando Bye No sto scherzando Sei un grande Marco Mem Marco Mem Ti regaleremo la membership Se riusciamo Brando dai stacca la live Che hai mal di testa Bene grazie Huge Hai troppo ragione Oh comunque Prima di chiudere la live Faremo una sperimentazione Ragazzi